Primo fortunato weekend di apertura per Ice Village, il grande villaggio invernale di Marina Centro che sabato 14 e domenica 15 dicembre ha dato il benvenuto a molti turisti provenienti da ogni parte d'Italia e a tanti riminesi. È l'unico luogo a Rimini al momento che può offrire il divertimento sul ghiaccio, cosa che diversamente non c'è. Ricordiamo che questa è la pista al coperto, precaria perché sta su solo per qualche mese, di 750 metri più grossa dell'Adriatico, lungo la costa adriatica. Noi offriamo due piste, una per i bambini, con i pinguini, con i maestri, con i corsi e quella grande per gli adulti che vogliono patinare tranquillamente in una pista 20x30. Sono state circa 3.500 le persone tra grandi e piccini che hanno affollato il villaggio sul ghiaccio di Piazzale Boscovici, giunto quest'anno alla sua settima edizione e aperto fino al 16 febbraio. Alle 3.500 presenze di Ice Village si sommano poi le circa 4.000 della diecente presepe di sabbia, di 450 metri quadri di superficie, per un totale di oltre 7.000 visitatori, che hanno deciso di trascorrere più di qualche ora nella suggestiva cornice della spiaggia di Rimini in versione natalizia. Abbiamo creato una piazza virtuale di una città qualsiasi del mondo, con palazzi nuovi, vecchi, e noi abbiamo messo la Natività Gesù Cristo al centro della piazza, come simbolo di incontro per tutti quanti. Abbiamo voluto ricordare Fellini con la locandina del film Amarcord, abbiamo voluto ricordare San Francesco d'Assisi nell'ottocentesimo anno del suo passaggio dalle nostre parti. In più ci sono tutta una serie di edifici religiosi, delle nazionalità, degli scultori che sono intervenuti. Piena di appuntamenti è anche la nuova settimana di Ice Village, che porterà domenica prossima, 22 dicembre, l'atteso arrivo di Babbo Natale, e proporrà molte novità, soprattutto per i più piccoli, dai corsi ai laboratori di orti colti, che avranno il compito di avvicinarli al mondo delle piante e dei giardini, fino agli spettacoli natalizi con giocolieri, musicisti e animatori dedicati, e alle presentazioni di libri con gli autori.